Siamo con il Presidente della Fondazione Mazzullo, Alfio Auteri. Quali sono i progetti che lei ha in serbo per questa bellissima struttura, oltre che chiaramente per l'Associazione? Innanzitutto devo dire che ringrazio l'amministrazione comunale e personalmente il Sindaco per avermi nominato e il Consiglio d'amministrazione per avermi eletto Presidente di questa fondazione. E' chiaro che non ho trovato una struttura in ottime condizioni sia come struttura stabile sia anche come fondazione. Lei come intende procedere ha già in mente un'idea di finanziamenti per poter realizzare le opere murari che poi serviranno da volano anche per il rilancio della fondazione in sé? Come pensa di ritrovare i fondi per procedere a questo tipo di lavori? Perché chiaramente sicuramente sarà un impegno di spesa non indifferente. Oggi il Sindaco ha fermato una lettera di richiesta alla Regione per interventi urgenti. Seguirà più avanti un progetto più articolato, redatto proprio dagli uffici del Comune, sempre di intervento sul Palazzo in più parti. Questo incontro domenica pomeriggio, proprio nella sede della fondazione Mazzullo con l'Ecvalesa, è senz'altro comunque un avvenimento. Voglio dire che ne ho approfittato di questa visita per avere un'ulteriore mano d'aiuto da parte dell'amministrazione per dare una bella sistemata al Palazzo. Ci saranno dei fiori, il giardino sarà sistemato subito, pulizie straordinarie, ci sarà qualche cosina, faremo una bella figura sicuramente. Non so se l'incontro sarà solo ed esclusivamente al Palazzo Dughi di Santo Stefano oppure sarà ricevuto dal Sindaco al Palazzo Comunale o qualche cosa. Cioè nel programma ufficiale ancora non è stato, perché non essendo una visita ufficiale è un divenire continuo, ma comunque più o meno noi avremo questo onore e questo piacere di avere il grande Valesa a dormire. La ringraziamo.